una bc l'avevamo già vista nei mesi scorsi ma tanto tempo fa delle azioni di photoshop intanto cosa sono le azioni di photoshop sono dei comandi automatici e le trovate c'è il pulsantino qui vedete nella barra degli strumenti azioni oppure andate nel nel menu finestra azioni eccolo qua e saltano fuori tutta una serie di azioni nella cartella default che già vi trovate belle che pronte e fatte in fate da dobi per photoshop che fanno in automatico diverse cose ad esempio questa qui del seppia vi fa la versione in bianco e nero di rata seppia della della foto che avete aperto queste sono già fatte per il webinar di questa sera ho pensato chiaramente di farvi vedere come si costruisce un'azione e ne ho pensata una molto molto semplice con qualcosa che può essere utile a tutti quanti quindi vediamo un attimo partiamo prima dall'inizio come come al solito quindi vediamo un attimo come si fa una cosa manualmente cioè passando da un menu all'altro e come è possibile farla con l'azione in modo totalmente automatico questa foto che vedete qui aperta che ho preso dal creative common se andiamo nel menu immagini andiamo a vedere le dimensioni immagini come vedete è una foto in formato panoramico cioè è stretta e lunga ok formato panoramico lo vediamo è una foto a 240 pixel di risoluzione di 4000 pixel per 2259 pixel di altezza diciamo in centimetri se la vado a stampare in un fotolaboratorio posso trompare stamparla 23 per 42 fino qua è chiaro ok quindi ho una foto che mi sono trovato così può anche essere una normale foto di un vostro di un vostro file l'ho presa stretta e lunga apposta per farvi vedere questi procedimenti qui quindi ammettiamo che vogliamo stamparla in realtà in un normale formato fotografico quindi ad esempio un 20 per 30 chiaramente le proporzioni del 20 per 30 sono diverse da quelle di questa foto di 2000 per 4000 pixel quindi con 20 per 30 è necessario andare nel menu immagine e applicare lo strumento di dimensione di dimensione quadro eccolo qua nello strumento dimensione quadro andiamo a dire quanto deve essere la dimensione dello spazio occupato dal nostro file qui vedete che mi dai 42 per 23 centimetri vado a scriverci 30 per 20 do l'ok e voilà e l'immagine mi viene ridimensionata chiaramente perdo dei pezzi dell'immagine ho attivato il trasforma vedere tutto quello che sta fuori della cornicetta è l'immagine originale infatti se sposto recupero chiaramente parte dell'immagine originale non posso recuperarla tutta a meno che di non fare una trasformazione di questo tipo però vedete che per portare la mia immagine nel 20 per 30 certo ce la posso portare tutta ma andrei a stampare un 20 per 30 con delle delle bande delle bande bianche quindi rimaniamo un attimo nella nostra intenzione quindi voglio fare la mia immagine 20 per 30 ho fatto ridimensione a quadro vado a riposizionarmi l'immagine all'interno del ridimensione a quadro vedete gli do l'ok dopodiché cosa faccio vado ad esempio ad applicare un trasformazione libera perché magari voglio anche ridimensionarmi un pochettino l'immagine che è quello che ho fatto prima ok quindi vedete non mi sono mangiato i pixel quindi posso ridimensionarlo un pochettino potevo farlo anche prima però ho voluto metterci anche il trasformazione in questa immagine qua quindi vado ad applicare una trasformazione gli do l'ok poi visto che devo andare a stampare in un fotolaboratorio sarebbe utile che questa immagine uscisse come file in srgb come spazio colore di lavoro come spazio colore profilo colore ok quindi vado nel menu modifica qui in fondo c'è converti a profilo magari l'immagine era già in srgb quindi non sarebbe stato necessario però visto che devo creare un'azione che mi deve portare il file in srgb anche di file che magari non sono in srgb o file che mi danno persone amici conoscenti o che prendo dal web e che magari hanno dei profili che ne so in quadricromia non penso che sia il vostro caso o magari sono anche senza un profilo e vado a dire di convertirlo in srgb come avete visto e poi vado semplicemente a fare un file salva con nome e nel vado a salvare dove mi pare con il mio nome vedete salva come copia photoshop formato jpeg eccetera eccetera e me lo vado a salvare ora tutte queste cose che mi avete visto fare a mano è possibile farle in automatico con un'azione adesso chiudo questo file lo riapro ecco amine kaitoni lo vedete qui è l'autore di questa immagine quindi se volete andare a vedere ecco lo metto in adobe ad esempio se volete andare a vedere le sue foto lo trovate su flick ok quindi ho questa mia immagine ho creato l'azione eccola qui adesso qui è uscito di default azione 1 che è il nome che ti da photoshop ma poi quando vi faccio vedere passo passo come come crearla gli diamo un nome che ci dica qualcosa ma vedete qua azione 1 nella paletta delle visioni ok come vedete ha il ridimensione a quadro trasforma la trasformazione libera e alla fine converti in profilo notate come accanto a ridimensione a quadro ve li accendo e ve li spengo vedete ho attivato questi check vedremo e vi spiegherò poi a cosa servono e perché in questo tipo di azione e in molte azioni che potete andare a creare è utile attivare le opzioni di dialogo quindi ho creato la mia azione che fa queste cose qui in basso nella palette delle azioni abbiamo il pulsante fai partire l'azione e voilà l'azione mi apre in automatico la finestra di dimensione quadro senza che io debba andarlo a prendere dal menu a questo punto gli do le dimensioni che mi servono facciamo 15 per 15 centimetri voglio farlo quadrato di do ok mi apre la trasformazione libera in automatico lo vedete e vado semplicemente o a centrarmi l'immagine all'interno del mio quadro 15 per 15 centimetri perché voglio stampare un 15 per 15 altrimenti se voglio vado un po ridimensionarmi l'immagine vedete anche possibile spostarla ok quindi posso andare a ridimensionarmi ad esempio così un attimo che voglio togliere quel pino da di là vado a tenere ok nella ridimensiono così gli do l'ok qua in alto vedete gli do l'ok e alla fine mi ritrovo il file convertito in srgb vedete qui in basso a destra nella palette info qua sotto vedete che c'è scritto srgb si vede quindi è convertito vi ricordo che quando l'ho aperto l'ho aperto in adobe rgb quindi l'azione ha fatto tutte queste cose chiudo senza salvare e andiamo a vedere come creare un'azione di questo tipo quindi cominciamo tutto quanto da zero mi apro un file qualsiasi ok prendiamo questo file qua io adesso lo metto vedete gli dico converti in adobe rgb così o il la conversione nell'azione in srgb altrimenti non me l'avrebbe fatta non l'avremmo vista diciamo così l'avrebbe fatta ma non l'avremmo vista quindi facciamo finta che abbiamo un file in adobe rgb oppure guardiamo facciamo una cosa lo converto in profoto facciamo finta che ci arriva un matto che ci dà un file in profoto guardate qui in basso a destra nella palette info vedete che c'è scritto profoto ok poi se guardiamo anche qui nella qui in basso a sinistra dove potete indicare il profilo del file vedete che c'è scritto profoto che l'ho convertito adesso per farvi vedere la cosa e chiaramente immaginiamo che ci arriva sto file da uno che usa il profoto magari qualcuno di voi non sa neanche che cos'è però vabbè un profilo così profoto quindi adesso vado a crearmi la mia azione è ok vedete qui nella paletta azioni c'è questo pulsantino con il più si vede anche il fumetto giallo vedete la nuova azione ok si vede sì sì ok quindi adesso vado a creare la mia azione ti do un nome che mi dica qualcosa quindi lo chiamo lo chiamo ridimensiona quadro srgb così so cosa fa questa azione qui ora me la salva nel gruppo del default posso anche crearmi un gruppo mio lo chiamo daniele chiamatelo come volete però vabbè quello magari lo vediamo un'altra volta ridime ridime ridimensiona mi sono presso ridimensiona ok quadro sgb e qui schiacciamo su record dopo aver schiacciato su record tutto quello che faccio in photoshop viene registrato dall'azione tenete d'occhio adesso nella palette livelli che si accenderà questo tondo diventerà rosso qui nella palette nella palette delle azioni e vedete c'è questo tondo qui che sta cliccando con il mouse diventerà rosso quindi record vedete che è diventato rosso indica che sta registrando photoshop sta registrando quindi andiamo nel menu immagine è utile scrivere solo su un pezzo di carta chiaramente prima e le cose così sapete già non è non fatto un gironzolate di qua e di là perché tutto quello che facciamo adesso photoshop lo registra quindi inutile registrare sbagli di menu e cose del genere quindi andiamo in dimensione quadro diamogli una dimensione standard 30 x 20 poi vi faccio vedere come in realtà sarà modificabile gli diamo ok eccolo qua vedete che l'ha registrata canvas a dimensione adesso io ce l'ho in inglese voi ce l'avete photoshop in italiano lo trovate in italiano non importa io adesso ci potrei mettere la dimensione che volete facciamo 20 x 30 così è anche uno standard stampate 20 x 30 vi trovate già al 20 x 30 bello e che pronto poi vedete che non c'è la non c'è la trasformazione libera attiva e quindi vado poi nel menu modifica e clicco su trasformazione libera e mi si attiva la griglia a questo punto trucchetto vado qui in alto vedete dove visto che gli devo dare un ok vado qui in alto e clicco nel cento per cento con la freccetta lo porta 99 perché devo introdurre una modifica e quindi metto 99 semplicemente perché devo dire a photoshop che c'è fatto qualcosa con questa trasformazione ok gli do l'ok e quindi viene applicata questa trasformazione libera al 99 per cento sia in larghezza che in altezza dopodiché vado ancora nel menu modifica converti in profilo vado a scegliere il srgb lascio adobe ace qui lascio relativo colorimetrico qua i due segni di spunta sul punto nero e il diter e gli do ok a questo punto quello che volevo che facesse l'azione è finito non mi serve fare di quitt'altro non facciamo il salva perché ci complica la vita e ve lo spiego un'altra volta clicco su questo pulsante stop vedete si vede qua questo quadrato stop e fermo l'azione adesso la mia azione è stata registrata se rimango così ogni volta che la uso il dimensione quadro mi farà un ridimensionamento in automatico attenzione a 20 per 30 che è quello che io non voglio perché voglio decidere io in che dimensione portare il tuo modo è ok idem la trasformazione libera me la farebbe al 99 quando in realtà io vorrei un po' trafficarmela quella trasformazione allora per fare questo è necessario in campana attivare la dimensione quadro come comando modale ed è quello che si fa cliccando qui e anche trasformazione libera come comando modale questo vuol dire che durante l'attivazione dell'azione in questi due passaggi photoshop non farà il ridimensionamento a 20 per 30 ma non lo fa lo lascia libero da modificare e da confermare idem per la trasformazione libera fino qui tutto chiaro tanto che la trovate registrata ok e vi ricordo che se avete qualche dubbio qualche chiarimento dovete soltanto scrivermi a questo punto l'azione è conclusa chiudo questa foto e ne andiamo a prendere un'altra e facciamo una roba un po tutta diversa vado a prendere questa foto qua questa foto qui è una delle mie foto e già in srgb la metto in adobe per per avere poi la trasformazione andiamo a vedere questa foto qui che dimensione ha vedete è una foto a 240 pixel per pollice di risoluzione la posso stampare 30 per 40 30 30 50 le vedete le dimensioni qui no ok diciamo che io invece la voglio stampare quadrata ok quindi senza andare a fare immagine dimensione immagine andarvi a scrivere magari che ne so 20 per 20 perché la voglio dargli l'ok puoi andare a fare trasformazione libera questo sto facendo tutto a mano è andare a fare trasformazione libera attivarla fare questo dargli l'ok andare qui convertirla in srgb perché la mando in un fotolaboratorio dargli l'ok e poi fare un salva con nome e mettergli un altro nome ad esempio anziché fare tutte queste cose qui a mano facciamole fare all'azione quindi ogni file ok qui c'è la mia azione la vedete ridimensiona quadro srgb clicco sul pulsante fai partire l'azione ne attiva l'azione è questo la classica freccia la vedete qua nella delle dell'azione quindi la prima cosa che mi chiederà che farà anzi è l'applicazione del quadro a 20 per 30 perché l'ho impostato quando ho creato l'azione a 20 per 30 però io voglio fare un quadrato è un 20 per 20 quindi tac ecco vedete che non parte non me l'attiva subito 20 per 30 me l'ho attiva però non parte già con l'ok perché perché ho messo il comando modale quel click quel check che vi sto indicando adesso con il mouse accanto a dimensione quadro quindi andiamo a mettere anziché 20 per 30 andiamo a fare un 15 10 15 e voilà adesso mi ha attivato trasformazione libera e vado a inquadrarmelo nel 10 15 ok 10 15 le stesse proporzioni beh 10 15 avrei potuto farlo anche da dimensione immagine però per farvi vedere ok diamo l'ok attenzione guardate qui in basso a destra nella palette info e ancora in adobe rgb è come spazio colore come profilo del file di partenza gli do l'ok e zack e te converti in profilo converti in profilo non me lo chiedo non non gli ho detto di metterlo in comando modale volendo avrei potuto metterlo in comando modale scusa una domanda dato che sei qua io posso entrare in comando modale su un'azione che non è dove non è stato previsto sì basta metterlo anche dopo in secondo momento sì sì ad esempio vedete qui l'azione sepia già fatta di photoshop ecco occhio che non tutti un attimo non tutte le operazioni registrate da un'azione possono essere messe in comando modale ad esempio questa qui di photoshop che c'è già che crea una una mappa un gradiente una mappa di sfumatura la vedete di suo nel file l'anteprima questa roba qua non ce l'ha al comando modale però glielo posso mettere visto alcuni alcuni passaggi hanno possono essere messi in comando modale non tutti perché alcuni alcuni non permettono la modifica diciamo così ok poi a questo punto fatto salva salva con nome salva una copia salvo in jpeg e gli dico salva la mia copia jpeg salva salva e in srgb vedete qui adesso in basso a destra srgb qui nella palette info chiudo non non salvo il mio originale e questo qui l'ho fatto a mano poi vediamo un po i salva che sono un po un casino nelle azioni salva qui ho la mia copia qui ho l'originale vedete la dimensione in pixel 4.500 per 3.200 qua e questo qui è quello che ho creato con l'azione proprio in photoshop vedete che ha già il profilo srgb e andiamo in immagine dimensione immagine sentiamo in centimetri 10 15 ok quindi questa cosa qui è chiaro allora per capirci un attimo solo una cosa è chiaro che se volevo fare semplicemente un una trasformazione un salvataggio in 10 15 visto che 10 15 ha le stesse proporzioni dei file delle nostre macchine fotografiche tranne la mia fuji la una della mia mirrorless fuji al file o i quattro terzi sono un po meno rettangolare ecco per qui ad esempio chi di voi ha dell'olimpus o dei micro quattro terzi che sono un pochettino più quadrotti idri dimensione a quadro può essere utile per portarli all'interno del delle proporzioni di un formato fotografico è chiaro che questa questa immagine qua potevo fare dimensione immagine e già nelle proporzioni e insomma 9 ok e già nelle proporzioni un 10 15 ma perché sono le proporzioni dei dei file chiaramente però vi ho fatto vedere lo stesso come costruire l'azione per dargli per scegliere voi la dimensione del quadro